buongiorno buongiorno testorine benvenuti in un nuovo vlog se sentite scoppiettie cose varie sto facendo il sugo e gli spaghetti interi mi raccomando perché ricky mi ha chiesto spaghetti interi a lui piacciono di più interi ed effettivamente non si spezzano però per comodità li ho sempre spezzati non fate caso ai capelli che fanno veramente schifo ma oggi andrò dalla parrucchiera a fare una tinta ovviamente senza ammoniaca e cose proprio una tinta naturale perché è veramente un sacco di capelli bianchi e fanno veramente schifo cioè hanno proprio bisogno di una sistemata e poi appunto alle 5 e mezza abbiamo appuntamento dalla ginecologa per l'ecografia del periodo quindi speriamo che si veda si faccia vedere che apre le cosciate che vogliamo sapere fremiamo per sapere se è maschio o femmina comunque io mi sbrigo per preparare pranzo per 50 minuti devo essere dalla parrucchiera perché vado presto appunto perché poi oggi abbiamo questo impegno importante e poi stasera sarò a cena dalla mia migliore amica marta questa serata me la prendo un po' per me per coccolarmi per prendermi un momento tutto mio che non ho mai quindi questa sera bando le ciance questa sera mi rilassero un po' e niente vado a scolare la pasta altrimenti si scuoce che bello mi sento di nuovo una donna prima veramente no mi piacciono tantissimo ho fatto un color caffè cacao per farvi capire e questa volta a differenza delle altre volte ho fatto una piega mossa perché liscio mi ha stufato quindi niente ora sto tornando a casa dai miei amori e poi ci prepariamo per andare alla visita ginecologica non vedo l'ora di fare l'ecografia e rivedere il mio patatino o patatina spero che apre le cosciette perché adesso fremo all'idea di sapere e niente quindi a top eccoci qua eccoci stiamo andando vai stiamo andando e l'ansia cresce no vabbè ci godiamo il mo un pochino c'è ma secondo me più che ansia è emozione emozione e niente c'è anche fede che ci teneva a venire anche lui vuole sapere se avrà un fratellino o una sorellina oppure ci diranno semplicemente non si vede eccola la quindi tanta come dice un alone non capisco ecco forse ora è andato via quindi magari siamo curiosi è normale ma poi alla fine quello che è vero amore siamo felici lo stesso ovviamente faccio notare una cosa però è l'importante che sia bene però sono curiosa involontariamente sia io che roberta ci siamo i siti con esatto io rosa e so che rappresenterò il 95 per cento di voi perché che hanno detto che secondo loro è maschio sono tipo due quindi pochissime io rappresento le due forza ragazzo lui rappresenta la categoria è un maschio maschio io invece sono tutta in pink compreso il rossetto quindi federico invece neutro perché la maglietta rossa di di super mario perché lui dice prima diceva che voleva un maschietto adesso invece ha deciso che per lui uguale vero fede per lui felice uguale se una femminuccia sarà il fratello maggiore che la protegge le vuole un sacco di bene se sarà un maschietto ci gioca con i soldatini è vero vabbè noi ci avviamo dai che non sono già una spagna si inizio a camminare e parlare insieme non fa più per me già adesso sono ci tenevo ancora a dirvi che però sono troppo felice dei miei capelli perché mi piacciono un sacco ma usa con sacco un sacco ciao ciao Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno. C'ho ancora la faccia da nanna io. No. La sonnata, mi devo ancora riprendere che ieri è stata una giornatona, non ho più vlogato, lo so, non vi ho più detto nulla. Non vi ho detto nulla neanche sui social perché mi avete chiesto in tantissime. Sesso, eh? Oh, no. Non si sa! Non vi ho detto nulla perché non ho nulla da dirvi, ecco, e questo è il fatto. Quindi siamo stati un po', cioè, fortunatissimi perché sta benissimo. Sì, cresce bene, forte. Aveva delle simpatiche gambine incrociate che non ci ha dato modo di sapere nulla. Diciamo che la ginecologa ci ha dato una piccola... Un 51%. No, vabbè, fa il 60%, ma comunque è troppo poco in ogni caso. Anche se fosse 70% perché vuol dire tutto e vuol dire niente perché si può ribaltare tutto alla morfologica. Quindi ci ha detto che secondo lei è femmina, però che potrebbe sbagliarsi perché aveva le gambe molto incrociate. Veramente sembrava come... Un Buddha! Esatto, bravissimo, il Buddha! La parte più simpatica è stata quando la ginecologa ha preso e ha iniziato a muoverla in maniera che... Sì, sì, mi ha mosso un po' la pancia per, insomma, provare a vedere se si girava o faceva qualcosa. Lei ha preso e ha chiuso ancora di più le gambe. Ancora ha detto lei. Vabbè. E abbiamo un'ecografia fantastica del suo piede proprio. Aspettate. Adesso vi faccio vedere... Quale è prima? Quella X ve la devo far vedere. Aspetta, non so cosa sto inquadrando. No, no, lascia così che così l'inquadratura è uguale. Allora, lascia. Allora, guardate. Scusate, metto contro luce, forse... Le vedete? La vedete la gambina? Guardate qua. Incrociate. In realtà non si vede benissimo, ma sono due, ovviamente, tutte e due messe così, a X. Cioè, incrociate tipo... tipo Buddha. Abbiamo visto tenere tutto il loro piede. Vabbè. Il suo, il loro è uno, sempre uno. Eh, sempre uno. E non mi scrivete che sono due, uno, maschio e uno, femmine. Si sa già che è uno. Per carità, basta uno. Però... In teoria dovrebbero... Dovrebbe... Farsi vedere bene. Dovrebbe farsi vedere tra un mesetto. Quindi, insomma, un po' di... Ancora un po' di suspense. E io mi attacco a quella piccola possibilità che mi ha dato la ginecologa. Quindi d'ora in poi la chiamerò fagiolina. Prima andavo sul maschile, lo ammetto, dicevo... Perché boh, mi veniva naturale dire fagiolino, chicchino, queste cose qua. Chichino. Chichino, patatino. Invece adesso dire tutto patatina, fagiolina. Perché c'è quel 60, quel 10 in più. 10 in più. Niente, comunque ci tenevamo a spiegarvi il tutto con calma. Perché poi ieri sono andata dalla mia migliore amica, come vi avevo accennato. Poi ero stanchissima perché era dal mattino che eravamo fuori per commissioni. Anche se lì non abbiamo vloggato. Sì, vabbè, erano commissioni... Commissioni che... Troppo noiose da vloggare, robe proprio burocratiche. Quindi niente, sono... Ero cotta, cotta, cotta. Ieri per la prima volta sono crollata. Lo segnerò sul calendario perché soffro di insonnia. Anche la ginecologa mi ha detto dormi? E io no. E immaginavo, ma sarà sempre peggio io. Quindi se adesso faccio le 3 di notte, dopo farò le 5, è fantastico. No, poi farai l'after. Faccio l'after, avrò davanti con delle occhiaie che mi arriveranno all'ombelico. Ma sì, cosa che sia. Niente ragazzi, io adesso mi spiccio, vado a sistemare tutta la casina. Che oggi forse... Saluti anche da Fede. Perché oggi forse passano i nonni, dopo un po' che non passavano perché c'era mia nonna che non stava bene. E quindi avevano giustamente altro da fare. Lui invece va a lavoro. Mi preparo che tra un po'. No, vabbè, tra un po'. C'è un po' il po'. Poverino. Poverino. Si va a sgobare a guadagnarsi da qualche modo. E niente ragazzi, questo è stato un vlog principalmente molto chiacchiericcio. E... Aiutando ci stanno anche i quelli, dai. Ah sì, dai. E niente, vi mando un bacione. Ciao. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.